È stata incrementata e più che raddoppiata la dotazione finanziaria del Bando Sicilia che piace 2024 enti locali, passando da 400.000 a circa 925.000 euro. Questo aumento permetterà il finanziamento di tutti i 100 progetti presentati dai comuni siciliani. Ciascuno riceverà un contributo fino a 10.000 euro. I progetti riguardano settori come agroalimentare, artigianato, ambiente, nautica, moda, turismo ed enogastronomia, con l'obbligo di concludersi entro il 31 ottobre 2024. Tra i progetti finanziati 41 sono della provincia di Messina, 25 di Palermo, 9 Agrigento, 9 Catania, 4 Trapani e 4 Enna, 3 Ragusa e 3 Caltanissetta, 2 a Siracusa. Il contributo regionale coprirà fino all'80% del costo del progetto con un massimo di 10.000 euro al netto di IVA.